Io penso che questa settimana a Marsala, un posto splendido, sia stata un'occasione per me, ma soprattutto per i molti giovani che hanno frequentato la scuola, di incontrare alcune intelligenze, non solo storici, ma anche sociologi, ma anche politologi, persone che studiano la realtà del paese, del Mediterraneo e del Mezzogiorno d'Italia, in modo innovativo. E penso che l'esperienza comune, anche di vita insieme nella scuola, sia stata molto affascinante. E quindi mi fa piacere tornarci, mi fa piacere esserci. Ecco, un successo, quello della Summer School, che è andato crescendo ogni anno. Sì, credo che il fatto di questo successo, la ragione di questo successo dipende dal livello che abbiamo, che innanzitutto Giorgio Scichilone, ma poi tutti quanti, siamo riusciti a mantenere. C'è un livello molto elevato. Alla scuola sono passati e passano alcuni tra i migliori docenti italiani e qualche straniero. E questo, naturalmente, questo livello così elevato è la ragione del successo, perché la gente lo riconosce. Riconosce che non si tratta della solita cosa. Parlerò di rivolte e rivoluzioni nella tradizione europea, perché il tema di quest'anno è l'Europa. E io proverò a cercare di argomentare come noi possiamo rivendicare nel mondo una tradizione intellettuale appunto legata alle rivolte, alle rivoluzioni, alla disobbedienza, che oggi è molto attuale. Le rivoluzioni per molto tempo sono state un grande topos attraverso cui è stato pensato il progresso, il futuro, la società, eccetera. Oggi noi possiamo non buttarle via, ma riscoprirle in un'altra dimensione, una dimensione antidispotica, una dimensione nella quale solo l'Europa nel mondo ha questa tradizione. Allora, la tradizione delle rivolte e delle rivoluzioni può essere oggi rigiocata non più come una volta era, come la prefigurazione del sol dell'avvenire, ma invece come la riscoperta di una tradizione antidispotica che è tipica dell'Europa e che non si ritrova, per esempio, nella tradizione cinese e che non si ritrova neanche nella tradizione giapponese.